Vi voglio parlare di una bella esperienza di cinque giorni che riprogramma completamente la vostra vitalità. Infatti si chiama proprio Vitality Coaching. È un'esperienza di cinque giorni, di benessere, di relazione mente-corpo, di rivitalizzazione della nostra vita e del nostro fisico tenuta a Reggio Emilia dal 26 al 30 di agosto da Livio Sgarbi e Roberto Pesce. Perché frequentare questo Vitality Coaching? Perché probabilmente abbiamo tutti bisogno di trovare un'integrazione fra ciò che noi siamo e ciò che noi sentiamo di essere. Il fatto di percepire benessere significa avere la forza di poter riuscire ad avere una vita migliore, riuscire a condizionare la nostra vita e quella delle persone che noi abbiamo attorno nel modo migliore, lasciando che le cose vengano con naturalezza e soprattutto con grande percezione di forza, di benessere e di grande potenza. Tutto questo nei Vitality Coaching di Livio Sgarbi e Roberto Pesce a Reggio Emilia dal 26 al 30 di agosto. Coaching di Livio Sgarbi e Roberto Pesce a Reggio Emilia dal 26 al 30 di agosto. Grazie a tutti!